salve sono pino gaudioso oggi vi vorrei leggere una delle mie poesie dal titolo stringimi forte a te la quale l'ho scritta quest'anno e più precisamente il 7 febbraio 2010 questa poesia la dedico alla donna che non ho ancora incontrato e quindi il titolo della poesia è stringimi forte a te stringimi forte a te stringimi forte a te amore mio stringimi forte a te quando di fronte a me scorrerà l'ultimo film della nostra vita una vita spesa per l'arte e la poesia per i sogni e gli mortacci tua una vita spesa a cercare di far del bene agli altri prima ancora che a noi stessi ma non sempre ci siamo riusciti stringimi forte a te stringimi forte a te amore mio stringimi forte a te quando di fronte a me i tuoi occhi belli incominceranno a lacrimare ininterrottamente ad libido forse pensando forse pensando a tutto il male che ci siamo regalati a tutto l'odio che abbiamo vomitato a tutto il bene che abbiamo sperperato stringimi forte a te stringimi forte a te amore mio senza chiederti il perché vi ho letto questa poesia con l'aiuto di un quaderno posizionato alla mia sinistra per non rischiare di dimenticare qualche parola o qualche frase il quadro che è abbinato questa mia poesia che tra l'altro la potrete trovare sul mio blog di poesie dal titolo poesia4u o si può anche leggere poesia4u.splinder.com e quindi dicevo il quadro abbinato a questa mia poesia e il quadro posizionato alla mia sinistra ovvero questo qui il cui titolo di questo quadro è sguardo melanconico e l'autore naturalmente è sottoscritto Pino Gaudioso il titolo della melodia che purtroppo non si sente tanto bene e che fa da sottofondo a questo mio video in cui vi ho letto testé una delle mie poesie dal titolo appunto stringimi forte a te ebbene il titolo di questa melodia è they can't never take that away from us la cui musica l'arrangiamento l'esecuzione la produzione e il video produttore in un certo senso di questo video è sottoscritto o è sempre sottoscritto ovvero Pino Gaudioso e quindi vi saluto e alla prossima speriamo bene ciao